Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, mettendo in serio pericolo l'intero ecosistema marino, rovinando spiagge e danneggiando la salute umana. Quest'inquinamento è diventato così rilevante da non riuscire più a controllarlo. Il sacerdote Don Pasquale Luzio di Lamezia, per cercare di sensibilizzare i cittadini e mettere in risalto questo problema, ha avuto l'idea del Pesce Mangia Plastica, progetto promosso e poi realizzato dalla comunità Masci-Lamezia Terme. L'iniziativa però è stata apprezzata da molti, iniziando a mettere i pesci Mangia Plastica sulla maggior parte delle spiagge d'Italia. Anche l'Associazione Genesi dell'Ambiente di Agropoli ha lavorato su questo progetto per sensibilizzare tutti i cittadini del Cilento, proponendo il posizionamento di 10 pesci Mangia Plastica sulle spiagge, nei tratti Baia di Trentova, 3 pesci, Spiaggia Marina, 1 pesce, Spiaggia Furano, 1 pesce, Lungomare San Marco, 4 pesci e Torre San Marco, 1 pesce. Sabato mattina l'Associazione Genesi ha donato il primo pesce al comune di Agropoli e la mascotte dell'Associazione, Sergio Lanzini, ha spiegato al sindaco Adamo Coppola l'importanza della catena alimentare e ha ammesso in risalto la perdita delle grandi proporzioni di fauna e flora locale, ma che i danni maggiori sono nel cuore del mare. La presenza di rifiuti che stallano nella pancia di questi pesci ha la capacità di far riflettere sulla problematica legata all'accumulo di plastica, non solo intorno alle specie marine, ma anche dentro di esse, di conseguenza compromette la salute dell'uomo qualora si ciba di pesci contaminati. Un progetto molto importante per la città che mira a sensibilizzare i cittadini, ma anche i turisti che affollano nelle nostre spiagge ogni estate a salvaguardare la risorsa mare dalla plastica.